Vento, mare, forza, determinazione, barche, cantieri nautici, regate, personaggi, storie, notizie e curiosità. Tutto questo è Una Vita da Velista. In questa puntata, Una Vita da Velista ci porta nell'isola di Cres, in Croazia, per l'Ork International World Championship, evento tra i più importanti e prestigiosi del calendario internazionale. Sono 119 gli equipaggi iscritti, 56 in Class A e 63 in Class B, in rappresentanza di 15 nazioni, il numero più alto nei 40 anni di storia dei campionati Ork. La Vita a Cres scorre tranquilla tra le minuscole vie del centro. L'isola, ricca di vegetazione, è apprezzata soprattutto per la sua particolare atmosfera, che ricorda l'Italia degli anni 50. L'isola, ricca di vegetazione, è apprezzata soprattutto per la sua particolare atmosfera, che ricorda l'Italia degli anni 50. L'isola, ricca di vegetazione, è apprezzata soprattutto per la sua particolare atmosfera, che ricorda l'Italia degli anni 50. L'isola, ricca di vegetazione, è apprezzata soprattutto per la sua particolare atmosfera, che ricorda l'Italia degli anni 50. L'isola, ricca di vegetazione, è apprezzata soprattutto per la sua particolare atmosfera, che ricorda l'Italia degli anni 50. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.